hello what's up you guys sono sempre la vostra ena di erena tionelli life coach sollievo per persone con dolore nociplastico come polvodinia fibromialgia e per creare davvero la vita che vuoi sulla base degli insegnamenti originali di mr nevin goddard e la sua law of assumption legge degli assunti legge di assunzione e oggi vi voglio parlare di come potete realmente come puoi realmente manifestare la tua persona specifica in un tempo veramente veramente mini 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 anche se per caso è tantissimo tempo che non siete in contatto e ovviamente ho già affrontato questo tema in tantissimi dei miei video qui sul canale nella playlist dedicata alla persona specifica ma giustamente non pretendo soprattutto se sei nuovo nuova nuova anche tu li abbia visti tutti perché sono veramente tantissimi ho iniziato a pubblicare in maniera spedita relativamente a la persona specifica come manifestare la persona specifica il tuo interesse con la legge di assunzione partire da ottobre dell'anno scorso da ottobre 2023 quindi ho praticamente sottato a volte più di un video al giorno su questo tema perché dopo quattro anni nella legge di assunzione avendo la scoperta del giugno del 2020 poi è dato il mio background come il coach della guarigione del dolore nociplastico poiché il meccanismo di funzionamento è praticamente lo stesso avevo notato che in italia primariamente all'estero perché è nata con l'ai della persona specifica la specific person è nata all'estero ma avevo notato che piuttosto sovente nella mia percezione di realtà si è creata una pletora di persone completamente esaurite dalla manifestazione di una persona specifica con casi anche piuttosto particolari e tanta confusione su che cosa significhi davvero la legge di assunzione e che davvero abbiamo praticamente il potere fatto a sua immagine e somiglianza quindi creiamo o meglio estraiamo dal tutto la versione desiderata della realtà che vogliamo vivere so io guys manifestiamo ogni cosa e da quattro anni qua ne ho veramente viste di tutti i colori ne ho manifestate veramente di ogni e ho potuto toccare con mano il potere immenso che ciascuno di noi ha ma oggi il tema del video di oggi vogliamo renderlo estremamente pratico e concreto e quindi vado a prendere i miei appunti per assicurarmi di essere precisa nel darti le indicazioni che voglio darti oggi perché voglio aiutare tutte le persone tra voi che seguono questo canale e by the way se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti mettere un mi piace al video attivarti la campanellina delle notifiche perché in questo modo youtube ti proporrà più video in tema sull'argomento così potrai anche selezionare e variare decidere tu nel mare magnum di questo aspetto di questo tema a chi e cosa dare la tua preziosa attenzione focus energia quello che sei volevo aiutare le persone che mi seguono e quindi saluto tutti gli iscritti tutti gli abbonati e le persone che si sono appena affacciate a questo canale caloroso benvenuto tutti voi potete manifestare ogni cosa ma nell'ambito della persona specifica so che ci sono tante persone che magari non sono in contatto hanno manifestato più volte la propria persona ma non totalmente conformata come desiderano e quindi magari in un recente sondaggio che avevo lanciato qui sul canale nella tab community è emerso che oltre il 40 per cento su 74 votanti ha dichiarato ha votato che sono quattro anni almeno più stanno cercando di manifestare la propria persona quindi avevo promesso mi ero ripromessa di continuare a pubblicare dei video che possano aiutare al meglio al meglio delle mie conoscenze capacità e comprensione abbiamo sempre bisogno di ricordare che tutto ciò che abbiamo bisogno di fare applicare il principio come spiega neville godard il divulgatore della legge di assunzione in occidente per coloro tra voi che sono 9 non l'hanno visto vi invito ad andare a guardare la registrazione della qui sul canale il video la registrazione della puntata in cui sono state intervistate in tv dalla giornalista paola donnini dalla sua trasmissione parole di donna tutto dedicato alla legge di assunzione portato per la prima volta in italia in televisione legge di assunzione e per quello che ne so in televisione è andata solo con nevi stesso negli anni 50 in america so you guys era un mio desiderio assolutamente diretto e ha impiegato pochi mesi per manifestarsi ed è stato semplicissimo veramente easy peasy facilissimo vogliamo aspettarci che la tua persona specifica si manifesti in meno di 24 ore a partire dal momento in cui guardi questo video e vogliamo stare a vedere quello che accade quindi ovviamente io sono estremamente lieta di averti qui sul mio canale perché su questo canale lavoriamo in maniera sistematica scientifica e con l'applicazione pura del principio della legge di assunzione non c'è nulla che sia fuori dalla tua portata quindi questo video voglio condividere con te e tutta l'audience che segue il mio canale cosa accade quando tu applichi il principio e quindi hai assumi che la tua persona specifica si manifesti compaia ti contatti in un certo tempo specifico e facciamo che decidiamo che questo tempo sia 24 ore da adesso dal momento in cui tu guardi questo video ovviamente questo video si rivolge alle persone che appunto sono chiamiamola sono in pausa dal avere un contatto costante continuo nella 3d e non a quelle persone ovviamente che invece hanno un contatto costante continuo che hanno già manifestato la relazione che sono addirittura ecovivenza eccetera eccetera in ogni caso i miei contenuti sono strutturati il strutturo appositamente per ancorare ancora di più il benessere in una relazione già ricreata o ricreata più volte per darla più stabile quindi comunque il mio intento assumo che siano comunque di utilità tutta vi ricordo che tronco il finale di molte parole perché questo è un canale all inclusive quindi a volte uso il maschile a volte uso il femminile a volte tronco finale delle parole per andare a significare lo schwa per chi non si riconosce nel genere maschile o femminile guido tutti i tipi di circonsidenti di identità in cui vi riconoscete ok voglio rendere questo canale più accogliente possibile per tutto quindi perdonatemi se non sempre utilizzo tutti i vari generi le posizioni di genere in tutte le espressioni sappiate che comunque siete sempre tutti tutte tutte abbracciate da questo ok cosa succederebbe se non avessi alcun dubbio ma proprio 0 0 0 0 dubbi sul poter manifestare la tua persona specifica entro le prossime 24 ore se avessi questa piena fiducia in te stessa e nella principio nell'applicazione del principio della legge spirituale dell'ho assumption legge degli assunti e di assunzione pieno piena fiducia che questa cosa accade e quindi hai un'aspettativa non basata sulla paura ma un'aspettativa che ha le sondamenta fondamenta più solide perché le fondamenta sono radicate nel principio spirituale che è inviolabile cosa succederebbe se sei lì dove ti trovi stai guardando in questo momento questo video e come mi senti parlare automaticamente qualcosa fa clic dentro di te una lampadina si accende e dice che la tua mente dice sì 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 ci può stare la mia persona si può manifestare anche adesso molto spesso quando io dico queste cose nei video alle persone accade hanno un contatto istantaneo quindi per coloro tra voi ultimi che avevo lanciato determinati commenti sul fatto che magari sono nuove la manifestazione vi invito sempre a curiosare se così scegliete ovviamente nei commenti agli altri video perché noterete che questo succede succede assolutamente spesso ed è anche una mia aspettativa fondata sul principio quindi accade inevitabile ma dai sì la mia persona specifica può comparire da pass così velocemente così istantaneamente non solo non è soltanto un messaggio un vocale una telefonata una videochiamata da parte della tua persona specifica ma inizia un contatto costante continua ancora più a sigo e se siete già in contatto costante continua assiduo questo assume dei toni di realtà ancora più corrispondenti al tuo gradimento quindi è ancora più attratto da te si mostra ancora più dolce affettuoso è tutto quello che vuoi e non solo questo ti dice vediamoci voglio vederti voglio passare del tempo di qualità con te voglio fare delle cose con te sai che cosa ti dico voglio essere sempre con te da oggi in avanti tutti i weekend insieme il più possibile tempo più possibile qualsiasi sia voglio dire la vostra fascia di età perché sappiamo ovviamente che con il tempo mano mano che passiamo nelle varie età della vita le necessità possono cambiare dipende poi da ciascuna singola persona da come la tua forma mentis da come sei da quello che vuoi perché come è sempre vissuto quello che ti aspetti eccetera ma in genere cambiamo cambiamo continuamente e a seconda delle necessità che abbiamo dentro così desideriamo è così ovvio normale naturale come una pianta ha bisogno di luce sole a seconda della sua specie in certe determinate quantità e ha un terriccio particolare una temperatura particolare così siamo noi mano mano che cambiamo nel tempo la tè che aveva cinque anni non ha le stesse esigenze del tè te che ne ha cinquanta ok che c'è sembrano fatto è un fatto ok so tutti comunque però sentiamo la necessità di essere connessi di ricevere amore e di poter dare amore di avere uno scambio di essere sostenuti di sentire che siamo nutriti e il nutrimento noi lo creiamo da dentro anche un bambino appena nato quello che sta facendo è manifestare e allora se ha bisogno di qualcosa a proposito di bisogno di necessità cosa fa se ha fame piange per chiamare l'attenzione della mamma in questo caso il sé quadrimensionale che questo nelle tradizioni orientali lo soccorre accorre immediatamente per soddisfare quel bisogno tutti i miei desideri tutti i miei bisogni sono già soddisfatti quindi se non avessimo alcun dubbio alcuno cioè è proprio è definitivo diretto manifesto la mia persona specifica entro le prossime 24 ore a partire da adesso e ora piena fiducia che questa cosa è già caduta quindi mi aspetto che arrivi perché è già ordinata è già programmata questa cosa che avrebbe accadrebbe anche molto velocemente anche prima delle 24 ore mi ha appena contattato mi ha appena telefonato ci vediamo questa sera sarà meraviglioso sarà fantabombastico ti chiama ti risponde ti invita a vedervi vuole portare la vostra relazione to the next level al prossimo livello cosa succederebbe se magari sono dieci anni che non senti la tua persona magari sono sei mesi magari ti contatta sporadicamente per coloro tra voi che hanno l'op and cold ghosting e tutte queste cose qui vi raccomando veramente con tutto il cuore nel vostro interesse di andare alla playlist dedicata alla persona specifica trovate tutto qui sotto nell'info box del video perché vi cambierà la vita da così e così e se proprio volete terminare questa esperienza e andare più in profondità qui sotto nel box info del video di ogni video come sempre troverete tutte le mie master class corsi book per andare a creare una solida nuova vita tutta un'altra vita di manifestazione intenzionale consapevole eccellente e vi guiderà passo passo in ogni sua accettatura della manifestazione della miglior relazione della vostra vita quindi manifesti contatto manifesti un messaggio manifesti telefonate ci sono persone che vanno avanti anni così quando poi si stancano per che vedono che la relazione non cammina non prosegue non avviene ecco lì che avviene una rottura nello stato di coscienza e noi non vogliamo questo we don't want that e vogliamo ricostruire la cosa per gradi in modo da manifestare in step ma avendo sempre ben chiaro qual è il nostro risultato finale perché abbiamo bisogno di dire è fatto il risultato finale fatto per non stancarsi per non stressarsi per non perdere la rotta per non avere rotture nella continuità della relazione ed è tutto giusto quello che stai facendo non ti dirò mai che stai facendo qualcosa di sbagliato non ti dirò mai che sono l'unica persona che può farti manifestare perché guess what tu sei il dio la della tua realtà può dio fare errori tu manifesti non le persone che chiacchierano e dicono e fanno compresa la sottoscritta però quello che voglio a sottolineare qui se stai seguendo il mio lavoro questo canale a parte il fatto salvo che continua a ripetere delle certificazioni e ci continua a battere su questo tasto perché nella mia realtà è importante vale conta e come se conta non è soltanto questo questo è il principio per cui tutto ciò che tu vedi nella tua 3d riflette il tuo self concept compresa la sottoscritta allora ci sono persone che ti dicono credenze limitanti questo sì questo no però questo perché lo stai volendo perché è un desiderio dell'ego perché è un desiderio di questo però vediamo che cosa dicono i tarocchi adesso vediamo la stesa che tipo di self concept riflettono tutti questi personaggi del tuo show secondo te che cosa ti rimandano indietro e che cosa ti rimanda indietro una persona che ti sta dicendo sei tu che manifesti sei dio la dea della tua realtà puoi avere qualsiasi cosa vuoi questo fa la differenza questo fa tutta la differenza una speciale tipo di differenza la differenza tra i ramanere limitati per anni seguire una pletora di gente la fuori anche all'estero e ottenere quello che vuoi e andare avanti nei tuoi anni con il desiderio già soddisfatto e creare altre cose vivere altre esperienze quindi che cosa succederebbe se davvero applicarsi in pieno in totale fede il principio per cui il tuo desiderio finale la tua convivenza la tua relazione il tuo patrimonio matrimonio con figli quello che è fatto cosa accadrebbe ora per trasportarti lì se la mente di sopravvivenza crea resistenza per abbassare la resistenza quello che si fa e manifestare in stacco ovviamente manifestare in passaggi che è quello che facciamo normalmente quando conosciamo qualcuno e iniziamo una relazione andiamo per tappe non bruciamo le tappe subito conosci qualcuno e dici wow questo è il mio marito questa è mia moglie questa è la persona con cui voglio sposarmi ok o con questo non scusata con cui mi vedo sposata anche se in realtà se proprio andiamo a vedere 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 quando incontriamo la vera persona specifica è questo quello che accade ora io voglio fare un'altra domanda perché in un post pubblicato nelle ultime ore mio post qui sulla tab community troveremo moltissimi post ispirazionali non esiste nessuna dinamica tutte le dinamiche con tutte le persone nel tuo mondo le stai creando tu la mia domanda è se tu arrivi all'ultimo giorno della di questa tua vita terrena ti guardi indietro e noti che ti sei fatto fermare da qualcuno che ti ha detto ehi tu stai manifestando questa persona perché necessità di una dinamica interna e per via di questa cosa che ovviamente manifestato tu sei all'ultimo giorno della tua vita e per via di quella cosa hai deciso di lasciare perdere e di non avere più la tua persona quella persona specifica nella tua vita guardandoti indietro ci sentiresti soddisfatto ci sentiresti appagato o avresti il rimpianto di aver seguito qualcuno che ti ha detto ehi in realtà tu non hai bisogno di quella persona un desiderio dell'ego lascia perdere e per quel motivo hai lasciato perdere saresti comunque soddisfatta della tua vita guardandoti indietro o avresti il rimpianto di non aver creduto fino in fondo in te stesso in te stessa e in te stessa e nella tua persona perché la tua persona è una manifestazione del punto di coscienza in cui sei ho risposto questo in un precedente video commento una domanda che mi era stata fatta e ringrazio ringrazio per queste domande profondi insight profonde introspezioni perché ci aiutano a ancorare la motivazione del perché desidero proprio questa esperienza cosa accadrebbe se ti aspettassi invece il meglio se ora ritorni ad adesso e dice ok no io questo è il mio desiderio siccome è un desiderio è tuo per legge spirituale non andiamo a mettere in questione i desideri qui la legge spirituale non mette in questione il desiderio la legge spirituale è il desiderio realizzato ok quindi se ti aspetti il meglio per te stesso te stessa te stesse se ti aspetti con aspettativa basata sul principio inviolabile per fede che la tua persona specifica ti contatta entro diciamo 24 ore da adesso ma potrebbe contattarti anche in questo momento la mia persona potrebbe contattarmi in questo momento in tantissimi video ha avuto un contatto proprio mentre mentre stavo girando il video e questa è una cosa piuttosto comune insomma accade se avessi la piena aspettativa positiva zero dubbi accade 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 adesso te lo dico non c'è modo non c'è tema deve accadere ti dico non c'è modo per cui non possa accadere deve accadere per forza non non si scappa non c'è modo per cui non possa accadere deve accadere per legge spirituale questo principio è non c'è nient'altro al di sopra di questo il principio è tutto ciò che è è il funzionamento della realtà richiariamo che cosa intendo con aspettatelo is going to test you ti scriverà ti scrive ti scrive perché è già successo ti viene incontro quello che hai fatto qui dentro che cosa intendo con aspettatelo intendo la piena fiducia nel principio spirituale lo ripetiamo di nuovo ok questa piena fiducia come come funziona per fare degli esempi pratici che conosci per ricopiare per ricalcare per sapere come com'è questa esperienza di assumere voglio dire schiacci l'interruttore della luce ti aspetti che la luce si accenda in condizioni normali la lampadina funziona quello funziona funziona schiacci l'interruttore la luce si accende e la luce fu piena fiducia come nel fatto che sai con capita nobvietà naturalità il tuo nome e cognome dove sei nato nata e quanti anni hai le impronte digitali che se lasci cadere ho già fatto questo esempio un sacco di volte se lasci cadere un oggetto per legge di gravità questo oggetto è attratto verso il centro della terra non può scappare a questo a meno che non sei gustavo rolla e quindi la legge spirituale è ingara è quello che comanda tutto comanda anche la legge di gravità infatti ci sono dei casi in cui accadono cose che normalmente per fisica classica non dovrebbero accadere gli oggetti sono attratti per via di legge di gravità newton assumi che così è quell'assunto è talmente tanto granitico che accade senza doverci pensare questo grado di certezza il tuo nome e cognome come ti chiami questo grado di certezza se riesci a copiarlo e dire l'esito che io osservo in questa sperimentazione del so che mi so che mi chiama me lo aspetto come mi aspetto che se schiaccio l'interruttore la luce si accende come sono il mio nome e cognome come sono questa fede assoluta certezza so so che è così se tu riesci ad applicare anche solo parzialmente questa sensazione questa certezza questa esperienza di certezza di assunzione è un fatto la cosa accade ok devi trovare un modo hai bisogno di trovare un modo devi non devi nulla sai che è ovvio hai bisogno di spalmare di trasportare questa ovvietà è ovvio è ovvio you know what è ovvio sulla tua ps devi trasportare questa normalità questo automatismo sulla tua ps ancora 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 costruire a partire da questo e su ogni altra cosa che vuoi dicendoti è ovvio lo so accade perché è già in mio possesso e se già in mio possesso e continua a essere in mio possesso e continua ad ancorarla sempre di più nella tua realtà è un dato di fatto ok questo tipo di previsione o precognizione è la manifestazione è l'esperienza che l'osservatore si aspetta e per questo collassa la funzione d'onda come diremo in ambito fisica dei quanti ora la funzione d'onda è la funzione dell'assunzione di cui parla Neville Goddard la funzione di un'assunzione è determinare l'esito degli eventi il fine determina i mezzi giustifica i mezzi in questo senso una volta che tu accetti il fine non ti devi preoccupare di come ci arriverai devi solo accettare l'esito voluto e rimanere saldo 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 in questa ferma convinzione no matter what per quanto alla mente di sopravvivenza critica sembri impossibile that's possible perché la legge spirituale è inviolabile nessuno può scappare a questo principio in più ogni momento è nuovo quindi in ogni momento riaffermi la tua decisione e se accade qualcosa che non in linea con quello che vuoi questo non è il mio risultato finale non mi interessa questo è il mio risultato finale convivo felicemente con la persona che amo sono nella migliore relazione della mia vita sono sposata sposa con eccetera eccetera ok in pratica l'esercizio che voglio portare per te oggi è molto molto semplice voglio che tu prenda un pezzo di carta questo è un esercizio che faccio fare da anni alle mie clienti con dolore in oceplastico nel mio programma vincere il dolore femminile e in generale nel mio metodo proprietario il metodo my body prendi un pezzo di carta o le note del tuo telefono e voglio che tu scriva tutte le convinzioni limitanti che hai per cui secondo te non è possibile che la tua persona specifica ti contatti entro 24 ore da adesso e voglio che tu scriva tutte queste cose una per una fatta quindi metti in pausa questo video per il tempo che ti serve fai una lista di tutti questi dubbi che hai quindi non lo so ma è impossibile perché è tanto tempo che non lo sento non la sento 24 ore sono troppo poche abbiamo discorso e bla 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 è successo xyz vecchia storia parentesi non è vero non esiste passato e futuro sono costrutti mentali quelle cose che continui a ripeterti roboticamente pensieri che hai ok tutte queste idee sono le robe sono le frasi sono affermazioni e le puoi vedere su carta non ti preoccupare non succede niente perché adesso ti faccio fare la parte finale sono le affermazioni cioè i comandi che stanno mettendo in pausa la manifestazione di quello che vuoi quindi per aprire aprire la porta e fare entrare la versione desiderata della tua persona specifica cosa avrai bisogno di fare? tutte le frasi limitanti che hai listato e più ne trovi meglio è voglio che tu adesso le depenni a fianco o sotto dove vuoi o con un colore sgargiante voglio che tu scriva l'esatto esatto esatto opposto di quella credenza limitante per tutte le frasi che riesci a trovare qualsiasi dubbio che ti viene in mente scrivilo e dopo che l'hai scritto trasformalo nell'esatto opposto e ovviamente c'è un esercizio in cui andiamo più in profondità questa è la base in cui lavoriamo anche facendo un cerchio corporeo fisico con le sensazioni fisiche e esiste un video qui sul canale dedicato proprio a questo esercizio sette passaggi pratici cosa fare quando stai male sette passaggi pratici e ne ho già ne ho già linkato tempo fa in un altro video lo rilencherò qui alla fine di questo video nelle schermate finali fai un check anche con quell'esercizio perché va più in profondità ma per adesso per adesso questo è tutto quello che hai bisogno di fare quando hai le tue frasi rovesciate nel loro esatto opposto voglio che tu ripeta le frasi nuove quelle che affermano il tuo risultato desiderato ok e è tutto il tempo che sai cosa? bene quel tempo è finito adesso è così mi contatta adesso perché io tengo questo messaggio tengo questo contatto dalla mia persona specifica adesso sta già arrivando è già arrivato hai bisogno you guys avete bisogno di prendere il timone della vostra nave voi siete il capitano della vostra nave avete bisogno di avete bisogno di tenere la barra e tenere la rotta nella direzione in cui volete andare è proprio è così per navigare funziona così altrimenti le maree, il vento, la bonaccia ok no avete bisogno di guidare avere leadership mentale avere leadership della vostra mente creare mind leadership è uno dei miei strumenti nella mia pratica mind body mente corpo nel mio metodo avete bisogno di guidare con leadership gentile ma ferma la vostra mente e eliminare uno per uno buttare fuori qualsiasi dubbio che arriva a sé durante le vostre giornate da qui ad adesso e poi avanti e se passano 24 ore ogni volta che arriva una di queste frasi no grazie ti ho giocato tutta la chance di chiacchierare di dire le tue cose mi dispiace non alimento più quella storia questo è il mio risultato finale convivo felicemente con la mia persona la mia persona mi contatta tutti i giorni siamo ancora più felici insieme adesso e tutte le frasi che sono in linea con quello che vuoi e anche dopo che manifesti il tuo risultato finale quando sei nella relazione quando sei nella convivenza quando sei nel matrimonio ogni volta che tu fai questo dai un potente segnale al tuo socconscio che con autorità dice questo è quello che voglio il mio desiderio realizzato sono con la mia persona ora sono nella relazione ora sono nella relazione ora bisogna farlo ancora 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 tocco finale questa sera prima di addormentarti nel tuo letto dove vuoi prima di andare a dormire magari anche davanti allo specchio del bagno ma non importa voglio che tu ti ripeta ad alta voce in modo da incarnare completamente con tutte le fibre del tuo essere con ogni cellula del tuo corpo con tutto il tuo cuore con tutto te stesso queste frasi rovesciate voglio che tu le proclami voglio che le dichiare mi aspetto che la mia persona per legge spirituale in fede mi contatti domani mattina quando vai a letto questa sera mi aspetto che accada mi aspetto questo risultato so che verrà so che verrà verso di me mi aspetto di ricevere il messaggio mi aspetto di ricevere bellissimi messaggi mi aspetto di ricevere raffiche di bellissimi messaggi da parte della mia persona specifica mi aspetto di essere contattata mi aspetto di vederlo è un invito a rivederci e a ricominciare voglio che tu legga ad alta voce queste frasi e le proclami le cose stanno così con autorità con grazia con devozione come più ti aggrada in modo che questo è un invito e una segnalazione per dire ehi segnalo che finalmente il mio desiderio si è realizzato mi aspetto che sia così lo dichiaro fermamente avremo una piacevole conversazione ci vedremo avremo un piacevole tempo insieme mi aspetto di passare la giornata una bellissima giornata un'intera bellissima giornata addirittura un bellissimo weekend con la mia persona specifica sarà fantabombastico aspettatelo goditi l'attesa meravigliosa sentiti potente di essere in facoltà di poter scegliere la tua realtà di aspettare nuove cose belle e radicare completamente dubbi il dubbio ti aiuta soltanto a reinstallare la tua dichiarazione di intenti no? graziemente le cose stanno così ti ringrazio per ricordarmi di dirti quello che voglio ora convivo felicemente con la persona che amo io e la mia persona siamo insieme ok? per ridichiarare il potente creatore che sei puoi creare ogni cosa quando hai letto ad alta voce potentemente le tue frasi ribaltate abbracciale con tutto te stesso e mettiti a dormire e addormentati con il suono di queste frasi meravigliose mentre scivoli nel sonno e in questo modo il tuo sei più grande quadrimensionale può lavorare in background mentre tu ti riposi e vedi quello che accade il giorno dopo se questa cosa viene fatta correttamente se elimini completamente ogni dubbio e sei ferma e perfetta nella tua decisione al meglio delle tue capacità e vai a dormire in pace sapendo che il tuo desiderio è già stato realizzato che ti è già stato dato che è già stato risposto con la piena e ferma aspettativa basata sull'assunto della legge espirituale che la tua persona specifica sarà nella tua vita nelle prossime 24 ore ti contatta fammi sapere qui sotto nei commenti vieni e aggiornaci nei commenti qui sotto facci sapere e fammi sapere quello che accade perché qualcosa di meraviglioso sta per accadere qualcosa di meraviglioso accade tra te e la tua persona ok? testalo provalo divertitici aspettati il meglio voglio che tu abbia un'aspettativa del meglio per te aspettati che la tua persona compaia e prima che tu te ne accorga la tua persona sarà di nuovo nella tua vita in maniera meravigliosa ok? naturalmente se hai ancora dubbi e fai fatica eccetera eccetera e ti senti che veramente è una situazione impossibile e che hai già fatto tanto e hai molte manifestazioni progresse incomplete o sono successe delle cose che hai anche manifestato tu eccetera eccetera ti raccomando caldamente di restare sintonizzato su questo canale andare alla playlist della persona specifica ci sono coperte insomma tutte le maggiori sfaccettature di questa cosa e di tuffarti nelle mie masterclass perché ti daranno il supporto di cui hai bisogno io sono sempre Elena Tione ti ringrazio per essere stata con me anche oggi in questo nuovo video e noi ci vediamo alla prossima e noi ci vediamo alla prossima